Bella a tutti ragazzi bentornati in questo nuovissimo video Oggi ragazzi come avrete ben letto dal titolo Siamo qui tornati con una serie che ci aveva abbandonato un po' di tempo fa Ebbene se oggi ragazzi torna Ultimate Team Ma se subisco gol il video finisce Quindi torno alla serie e il video finisce Allora vi dico sono in Division Rivals Division 6 E vinco le partite Ma è difficile che non subisco gol Quindi non aspettatevi di vedere la partita intera Allora andiamo a prepararci Questa è la mia squadra ragazzi Che comunque la voglio far vedere Perché non sono mai arrivato a un punto così buono da quando gioco a foot Non ci ho mai dedicato tanto tempo E finalmente qualcosina sono riuscito a tirar fuori Niente non perdiamo tempo E finiamoci subito in partita Allora La squadra non è il top Ma Cioè A parte quel picchi terzino Va bene Ok Ok Attenzione 1-0 What? Varella di testa Ho visto bene Ho visto bene Varella di testa Al terzo minuto siamo in vantaggio Tonino Tonino Noo che culo Ma Comunque ragazzi veloci in sovraimpressione adesso Come vorrei arrivare In troppi nel foot magari Ad avere la squadra Contate che non ci gioco tanto Però la mia squadra Entro la fine di FIFA 22 Vorrei Vorrei No 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 non è vero Non è vero ma adesso che culo ha Oh Non voglio che il video finisca Ok Muriel yes No Perché non so fare i pallonetti Niccolò Varella E questo è buono Così impari Uscire tra il tuo portiere di merda No 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 Sì Rui Patricio Oddio Cosa ho appena visto No Questo è gol Ok 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 Stai iniziando ad attaccare Io ho Rui Patricio Non annullere In porta No però Sti rinvii Decisiva La deduzione Di pezzo No